Siamo da Spazio 360, qua a Firenze, è un negozio meraviglioso, se non siete mai stati qua dovete assolutamente venirci a trovare. Il negozio è molto articolato, è una superficie di circa 3000 metri quadrati, quindi molto grande e è interessante da tutti i punti di vista, perché partiamo dal sottotraccia, perché la mamma della società nasce dalla termoidraulica, quindi Thermomarket, è la fattrice di tutta questa società, di questa associazione. Quindi facciamo dal sottotraccia fino a tutto quello che sta sopra, quindi pavimenti, rivestimenti, arredi di tutti i punti. Fino a qualche anno fa il negozio si fermava all'arredo bagno e a una parte di arredi dedicati principalmente a poltrona frau, ma da un po' di tempo a questa parte, quindi da un annetto a questa parte, il negozio si è completamente trasformato e quindi si cerca di affrontare il design veramente a 360 gradi, come il resto del pay-off aziendale, perché noi in tutte le nostre promozioni di pubblicità scriviamo che arrediamo a 360 gradi e oggi davvero con l'inaugurazione appunto di questo spazio Molteni, Vitra e Dada possiamo veramente dire che arrediamo a 360 gradi i vostri spazi. Grazie a tutti!